Benvenuto a skater vs skater. Ecco come funziona. Uno spot storico, oggi siamo nella skateplaza di Valdofusi. Due skater parecchio forti, cinque lettere a testa. Una possibilità di proporre, due di difendersi, tre ultime try. Inizia chi ce l'ha più grosso. Inizia fede per mezzo millimetro. Che comunque poco non è, ci tenevo a specificarlo. Let's go! Direi che buono! Momento, 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 dimenticavo. Per supportare gli skater in questo video ho messo in paglio la t-shirt ufficiale del canale e una tavola e il dorato. Perché sì, è giusto ricompensarli per ciò che stiamo guardando. Castano a seconda try. Castano a seconda try. Let's go! Ci stanno tanto dentro forte. Yes! Let's go! Uno perfetto! Quasi a 3 Valid Valid Il concorrente ha detto valido Non posso E' un posto di cambiare Così da spaisare un po' la silu Ma vanno dai 5 Ok, questi sono belli stronzi Che fatico a seguirli Yes 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 3-3-4 beh, la situa è combattuta direi che era buono, era pulitissimo 4-3, vede 4, 4-3 oh yeah ancora due try no basta, e ancora una non lo so, perché ha toccato facciamo scegliere il concorrente ha toccato dietro difenza è valid difenza, continuiamo è vero? f*** 3-3 ultima try dai dai sono due ragazza di là ho fatto ho fatto ve la siete combattuta veramente tanto troppo aperto devo annunciare il vincitore oh, perdona mi lasci fare il mio lavoro Halloween Ritz castelli vi siete veramente battuti bene ti devo regalare la tavola la tavola? la tavola, non la maglia anche la maglia porco no, grazie se voi non avete comprato ancora la maglia compratela, è valid molto figa non l'avevo capito, nemmeno raga, io allora li lascio continuare a fare i porci molto forti, molto, molto forti sono contento spero che video vi sia piaciuto se così fosse like, commento, iscrivetevi molti di voi non sono iscritti quindi iscrivete, magliettine, mi raccomando ciao